Sono stati recuperati in extremisi 551.000 euro di finanziamento regionale per la riqualificazione della ex scuola Carlo Febbo di San Nicolò, un risultato che chiude un'attività per la quale l'amministrazione d'Alberto era impegnata sin dall'insediamento, con l'obiettivo di recuperare il contributo già segnato ma sfumato a causa del mancato avvio dei lavori che sarebbero dovuti partire nel 2013. Proprio la scuola Febbo era stata oggetto di una bonifica per la rimozione di rifiuti e materiali di risulta che avevano degradato l'immagine e la sicurezza dello stabile sia all'interno che all'esterno. Un progetto che ci potrà portare alla riqualificazione complessiva della frazione perché si tratta di uno spazio che resterà ovviamente destinato e dedicato all'interesse pubblico, quindi riservato ai servizi, alle associazioni, quindi uno spazio dedicato alla città con la realizzazione di una biblioteca. Ovviamente poi ci confronteremo con le associazioni del territorio anche in un meccanismo partecipativo proprio per decidere insieme come utilizzare gli importanti spazi dell'interno della Carlofebbo e anche per recuperare l'area esterna con lo spazio verde di cui la frazione ha fortemente bisogno. Ringrazio gli uffici della Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo che hanno accolto la richiesta del Comune di Termo, l'esigenza rappresentata dall'amministrazione comunale, di recuperare queste risorse appunto per restituire dignità ad una frazione la più popolosa del nostro territorio attraverso il recupero di un'area che potrà finalmente portare a una riqualificazione dell'interesse pubblico della frazione ma della città tutta. Il prossimo passo sarà quello di concludere dunque a stretto giro la fase progettuale sulla base di una condivisione con cittadini e associazioni. Adesso con l'assestamento di bilancio anticiperemo l'anno di intervento, insomma abbiamo stanziato prudenzialmente al 2020, anticiperemo al 2019 anche perché l'obiettivo adesso è accelerare, accelerare sul progetto. Abbiamo un progetto definitivo esecutivo che deve essere parzialmente rimodulato ma ovviamente minimi ritocchi e poi validato e speriamo entro la fine di quest'anno di poter avviare già l'iter per la gara e poi per i lavori.